bella raga battiamo la lazio 3 a 1 una fatica ragazzi comunque una fatica perché alla fine il risultato parla di una vittoria netta come doveva essere ma abbiamo fatto una fatica per ottenerla bestiale e non perché non abbiamo prodotto occasioni ma perché ce ne mangiamo 6.000 di occasioni è un è un continuo è un continuo allora partiamo da un presupposto in questa partita cioè in zaghi se rimette dentro il correa primo minuto andrebbe arrestato arrestato per lo meno da ufficio inchieste perché non si può continuare a far giocare alla farfallina correa perché sono due anni che abbiamo capito che è un giocatore vogliamo dire giocatore giocatrice no perché io penso che se gli dici che è una giocatrice da calcio femminile le giocatrici del calcio femminile potrebbero anche incazzarsi offendersi fa schifo fa cagare c'era un sondaggio su twitter diceva cosa volete mettere nella maglia ora che non c'è lo sponsor io ci scriverei correa fai cagare ok è inutile continuare a far giocare devono giocare in zaghi sai chi deve giocare lukaku lautaro lautaro lukaku lukaku lautaro lautaro lukaku lukaku lautaro lautaro lukaku questi devono giocare e basta non è capace hai perso un'ora di partita giocando in dieci e già avevamo dimostrato la nostra forza la nostra superiorità comunque perché che ne dica marchegiani che al commento di sky probabilmente guardava la partita con l'aquilotto della lazio sulla spalla abbiamo dominato gli abbiamo pisciato in testa e gli abbiamo anche cacato in bocca alla fine perché abbiamo dominato la partita perché noi abbiamo avuto due occasioni su due cagate da ufficio inchieste di acerbi che si è assacchettato due volte senza motivo senza un perché senza un per come se la partita è stata dominata con 600 occasioni a tre ok andate da vedere gli expected goal visto che siete tutti statistici no l'inter praticamente produceva un'occasione ogni discesa che andava giù abbiamo vinto 3-1 agli ultimi minuti con chi con doppietta di lautaro grazie a chi a un lukaku che ha sfaccato tutto allora io mi domando e dico dobbiamo conquistarci il quarto posto siamo rientrati per il quarto posto in corsa adesso cosa cazzo fai giocare correo ma cosa credi che i giocatori sono delle arance che si spremono ma falli giocare che hanno 25 anni che possono giocare anche una partita al giorno da 90 minuti ma che cazzo ma basta basta con sto turnover preordinato preconfezionato che fa ridere le galline fa ridere fa ridere le galline diamogli un taglio in zaghi tira fuori quelle due noccioline che c'hai nelle mutande ok è il momento di prendere le decisioni definitive decise lukaku lautaro lautaro lukaku la coppia deve essere questa in attacco punto punto poi quando sta 3-1 al 75 esi o magari metti dentro gioco fai un cambio per far riposare non prima dopo prima metti la partita spianata così non dobbiamo spomparci fino al 96 esimo dopo simone in zaghi metti dentro le merdine quando sei in vantaggio parlo piano perché ho il dubbio che tu abbia bisogno dei disegnini ad un certo punto sei tanto bravo per certe cose caschi nella classica buccia di banana queste sono stronzate ok quindi io supera queste cose parlando della partita abbiamo dominato senza ombra di dubbio lukaku lautaro una coppia devastante e se tu vuoi avere qualche chance in questo finale di portare a casa qualcosa ok e non dico cosa ovviamente devi far giocare questa l'unica coppia offensiva decente che possiamo presentare perché per il resto noi dobbiamo fare 638 occasioni da gol per fare tre gol quindi capisci anche che come al solito non la si butta dentro neanche con le mani un plauso a gossens che si è immolato sul gol del 2 a 1 decisivo un plauso veramente perché ha fatto un gol veramente pazzesco peccato spero che non sia niente di grave alla spalla però gli fa onore che non ha avuto paura di niente e ci è andato con tutto quello che ci poteva andare per andare a fare quel gol fondamentale e poi cosa vuoi dire ragazzi poi è questione di lautaro martinez lautaro martinez ok che incoppia con quello lì quello grosso quello grosso non quello quello grosso capito fa da matti comunque ragazzi godiamoci questa vittoria veramente perché arriva in un momento importantissimo dove ora ogni punto è pesantissimo per noi raggiungere il quarto posto con la finale di coppa italia e una champions lì sarebbe comunque una stagione positiva poi ci sarà quella partita lì quella doppia partita lì della quale io non voglio parlare perché per me sarà pesantissima pesantissima da affrontare ma è anche il bello questo ragazzi andare a affrontare queste partite a petto in fuori emozionarsi incazzarsi perché vuol dire che siamo vivi e quindi andiamo a giocare con l'inter nel cuore e come sempre bella raga per me c'è solo l'inter non t'azzardare più a far giocare Correa ok